Ovviamente anche in Italia c'è un certo livello di libertà di opinione, libertà di parola, libertà di stampa, ma ovviamente non è perfetta, è una situazione sempre imperfetta, quindi bisogna comunque stare in guardia e vigilare. Sì, ovviamente c'è stata questa protesta che ha avuto successo ed è quella che poi contribuirà in futuro anche ad allentare un po' la situazione e il ruolo delle persone è avere una vigilanza costante sulla libertà di informazione e sulla condivisione delle conoscenze. Quindi ovviamente c'è questo desiderio globale di diffondere la conoscenza. Ultimamente si sono viste nuove comunità di Wikipedia spuntare in paesi come il Kazakistan, l'India e anche in certe regioni dell'Africa e quindi si può dire che la globalizzazione sta diventando sempre più globalizzata. Nessuno può dire con sicurezza se le cose miglioreranno o peggioreranno. Wikipedia comunque rimarrà presente anche quando non ci sarà più il governo Berlusconi. Grazie. Grazie.